Pronto! Chi è, Flavio Inzinna? Ancora in carne ed ossa! Più carne che ossa, dottor Costanzo! Buonasera, buonasera, che piacere! Che dice, vuol venire ospite a Norizio Costanzo? Dico che vengo da corsa, che dico, dottore? È un piacere enorme! Eh, certo, così uno dà una nota per la possibilità proprio di dire... Certamente, certamente! Certo, certo! Parole sante, parole sante! Allora dai, ci vediamo intorno al dottore e poi decidiamo che cosa fare anche nella mente! Chiamano l'agenzia, parli con il dottor Tattino e decidete, va bene? Va benissimo, dottore! Grazie di cuore! Le sarò sempre grato! Ciao, Inzinna, ciao! Arrivederci, arrivederci! Che cazzo ha detto? Ma l'immortaggio non ci ho capito una cippa! Te, 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 te! Ma che c'ha i peli sulla lingua? Sta a Canale 5 ancora, sto nano malefico! Mancate le Val d'Aosta! Se c'era monarchia col cazzo che gli facevano fare il programma! A me me l'hanno chiuso! Affari tuoi! Affari tuoi, sì! Mo so, cazzi miei! Dottor Costanzo! A posto! Allora, Maurizio, che ti ha detto? Dottore, lei ha detto che viene! Do cazzo dove è andata? Si è sputtanato! Partita la chiamata! Sì!